Micherà un po' perché le mantole scrocchiano tantissimo Non poteva mancare il loccetto della fortuna Eriviusi ASMR Salve a tutti! Buongiorno! Come state? Spero tutto bene! Oggi andrò a mangiare insieme a voi il grambo Andremo ad aprirlo subito Wow! Buonissimo! Mamma mia quanto è buono! Ci ho fatto mettere anche il topico Ho fatto mettere un sacco di ingredienti nuovi Riso nero assolutamente riso nero perché io lo adoro Ho fatto mettere un po' di ananas, mango, mandorle, salmone crudo, tonno crudo E le mandorle perché le mandorle scrocchiano tantissimo Io le faccio mettere sempre le mandorle perché sono buonissime Bene ragazzi, io adesso inizio a mangiare questa predipatezza Ero! 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 no A presto! Mescuro che ero con queste mandorle bellissima bellissima www.mesmerism.info Abbiamo anche il nostro amico Zeus qua, il nostro piccolo Cambiamo la subiti Allora gli ingredienti Allora tonno crudo, salmone crudo, ananas, mango, patate dolci, crispy, mandorle, e tobiko, e riccio nero, l'adoro, l'adoro troppo Allora gli ingredienti c'è molto buono Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Buonissimo. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Fantastico. Sì, sì.